buonasera amici buonasera bentornati sull'orizzonte degli eventi dopo le feste ricominciamo a fare i nostri incontri anche live e questa sera il primo dell'anno lo facciamo assieme all'amico mario iannacone ciao mario ben tornato buon anno buon anno buon anno speriamo che sia un anno speriamo bene normale se fosse normale sarebbe già tanto è difficile ecco ci sono tanti tanti focolai tante preoccupazioni e tanti e beh speriamo che insomma qualcuno ci dia una mano potendo l'unico che potrebbe darci una mano forse veramente allora questa sera un argomento che mario mi ha proposto un po di tempo fa e che finalmente riusciamo a realizzare questa sera parlare di patriarcato matriarcato definire un po questi concetti che ormai sono stati ridotti a slogan più che a concetti della sociologia della filosofia dell'antropologia e della storia e quindi faremo appunto la storia di questo di questo concetto di matriarcato di cos'è il patriarcato sempre secondo la storia e quindi sarà sicuramente come previsto dai nostri amici nei commenti una serata molto interessante ecco mario introduciamo questo questa questa parola che patriarcato che si contrappone idealmente a matriarcato ecco si contrapone realmente sì sì poi vedremo che insomma c'è una interpretazione assolutamente arbitraria del termine patriarcato e quindi cercheremo appunto cercherai di raccontare che cos'è in realtà tornare al vero significato dei termini allora partiamo con questa storia del concetto innanzitutto patriarcato vuol dire anche famiglia vuol dire famiglia sì sì ed è molto studiato nel campo della storia della storia medievale della storia antica della storia moderna si studiano le evoluzioni della della famiglia e questi termini emergono emergono il loro vero significato qui ci sono alcuni testi utilizzati all'università quindi importanti molto 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 chiari pieni di dati che sono testi di demografia storica che spiegano quale sia stata l'evoluzione della famiglia in europa in particolare in europa con qualche esempio tratto da altri continenti dall'alto medioevo alla prima età contemporanea o moderna diciamo prima età contemporanea direi quindi prima primi dell'ottocento c'è stata un'evoluzione certamente c'è stata un'evoluzione si parte da una famiglia patriarcale vera e propria che è quella antica che quella latina che quella del periodo bizantino e che e che continua almeno fino a alla fine del settecento e non oltre ecco perché questi questi dibattiti sul patriarcato che va sconfitto sono assolutamente stupidi non so perché in realtà servono a certe agende però sono infondati sono infondati per come vengono proposti perché la famiglia patriarcale nel senso proprio del termine non esiste più da quell'epoca non esiste più da quando da quando si è passati da una famiglia da una diciamo da una società tradizionale e agricola prevalentemente agricola a una società che conosceva già delle applicazioni industriali per esempio il vapore le macchine a vapore hanno contribuito moltissimo a cambiare anche la struttura della famiglia in moltissime zone anche d'italia quando quando viene prima in inghilterra perché prima le cose sono successe in inghilterra poi in francia poi anche in italia quando la famiglia patriarcale è quella naturalmente nella quale si si forma un nucleo familiare che poi continua continua nel tempo per almeno due o tre generazioni diciamo che tipicamente quella che forma i primi villaggi i villaggi non so nell'epoca tardo antica o del primo medioevo si una coppia andava in una zona fertile coltivava la terra aveva dei figli tipicamente ecco in quei tempi i figli erano magari 6 7 8 9 questi figli poi a loro volta conoscendo persone al di fuori di questo nucleo familiare si sposavano portavano all'interno della famiglia della casa familiare della casa paterna le spose e gli sposi e si formava una seconda una terza generazione con un nucleo familiare che era un nucleo familiare quindi di affetti e riproduttivo ma anche economico infatti abbiamo centinaia di casi di villaggi nei quali le persone avevano tutte lo stesso cognome questo da da quando i cognomi sono stati registrati cioè dopo il concilio di trento e da quel tempo che noi conosciamo realmente i cognomi delle famiglie delle famiglie delle famiglie non nobili perché c'era l'obbligo per il parroco di tenere i registri delle nascite delle morti e quindi si cominciano anche a a riportare i cognomi no che tipicamente prima di questo tempo non c'erano non esistevano ed era il cognome del padre che veniva attribuito ai membri della famiglia sì sì era il cognome del padre questo derivava dal diritto romano un po quindi sì pater familias che aveva un aveva diritto di vita o di morte come ho sentito dire aveva il modello patriarcale aveva però aveva c'era una divisione di ruoli c'era una divisione di di ruoli e poi tipicamente c'era una un istituto del maggiorascato cioè i diciamo i beni familiari venivano ereditati dal dal figlio maschio più anziano cioè dal primo genito e quindi anche i figli diciamo più piccoli secondo il terzo il quarto fino a che c'erano ereditavano soltanto in misura minore le figlie femmine avevano diritto a una dote quando si sposavano questo a cosa serviva serviva a non disperdere i beni familiari se c'era un podere c'era il rischio che si spezzettasse la terra e quindi poi alla fine nessuno potesse più viverci in questo modo col maggiorascato invece questo pericolo veniva scongiurato quindi queste famiglie patriarcali avevano patriarcali nel senso proprio della parola che finiscono attorno alla fine del settecento con l'introduzione delle prime fabbriche con il cambiamento con i cambiamenti anche legislativi che vengono introdotti soprattutto in epoca napoleonica in epoca rivoluzionaria no perché i francesi portano la rivoluzione in italia fanno stragi in mani che oggi sono dimenticate ma uccidevano a man bassa e lì insomma l'introduzione del codice napoleonico perché poi dopo arriva subito napoleone e l'introduzione della legislazione rivoluzionaria cambiano un po' già i modelli familiari e poi ecco secondo tipo di famiglia è la cosiddetta famiglia ceppo cioè la famiglia della coppia che ha al massimo una seconda generazione che vive che vive in casa in questo senso queste erano tutte e due famiglie allargate oggi si sento dire da molti attori hanno per esempio in mente i figli di toniazzi noi siamo contenti perché noi abbiamo questa questa caratteristica che abbiamo siamo vissuti in una famiglia allargata che è una novità dei nostri tempi ho sentito dire no le famiglie allargate sono sempre esistite perché insieme al nucleo principale si legavano i figli eventualmente i cugini gli zii e queste erano già delle famiglie allargate che perché erano una comunità anche economica il grande cambiamento sia quando si impone il modello della fabbrica o del dell'andare a lavorare fuori e lì comincia a diciamo a emergere il fenomeno della famiglia nucleare cosiddetta famiglia nucleare la famiglia composta dalla coppia e dei loro e loro figli che tipicamente si eh associa a delle abitazioni più piccole sempre più piccole le famiglie diciamo le le abitazioni delle famiglie antiche erano molto grandi c'era spazio c'era possibilità di di costruire non c'erano tutti i vincoli che ci sono che ci sono oggi quindi se uno sapeva fare una casa se la faceva grande e dentro ci potevano abitare in tanti mentre eh col fenomeno del dell'urbanismo sempre più ehm sempre più accentuato quindi con l'abitare in città beh le case sono diventano più piccole e possono eh ospitare famiglie nucleari cioè famiglie composte dal nucleo e da qualche figlio sempre meno sempre meno ehm c'ho anche qui dei dati sul sul numero diciamo di figli medio eh che ho tirato fuori prima eh adesso devo forse l'ho messo sotto altre carte come a mio solito se riesco a trovarlo eh era qui l'ho visto prima ehm perché sono delle note di demografia storica molto interessanti che eh eh queste sono delle delle vecchie delle delle annotazioni che che feci all'epoca dell'università perché a me affascinò sempre questo tipo di diciamo di studi mi ha sempre affascinato ehm è l'approccio demografico alla storia eh dunque per esempio l'età del matrimonio attorno al 1600 è fra i 27 e 28 anni per il maschio 26 e 25 anni per la donna mentre a fine ottocento quando eh quando emerge la famiglia anzi si impone la famiglia ceppo l'età eh del primo del matrimonio si si abbassano quindi non è che quando diciamo nel cinquecento nel seicento ci si sposasse prima no come spesso si dice ci si sposava dopo quando quando c'era la possibilità di sostentarsi ehm e poi eh l'età media risale eh attorno dopo la dopo la prima guerra mondiale negli anni anni 20 anni 30 e poi ridiscende eh dopo la seconda guerra mondiale ehm cosa cosa serve sapere queste cose serve per sapere eh quale qual era il numero medio di eh figli per coppia eh fino al tardo settembre tardo ottocento quindi alle eh fino alla alla famiglia nucleare eh i figli medi per coppia erano undici tra i dieci e gli undici perché eh l'età fertile eh diciamo eh per le donne era molto più lunga mediamente e poi si abbassa ehm a eh otto sette sei cinque quattro tre due eh adesso siamo a un figlio per coppia se va bene e poi eh poi poi ai figli pelosetti siamo arrivati pelosetti? Abbiamo abbiamo i figli pelosetti cioè cani e gatti che hanno sostituito. Ah quelli sì sì quelli quelli sì sì ne ho visto uno oggi a Segino sì con il capiottino con il capiottino e anche un berrettino eh anzi pensavo di di vedere un bambino quindi ho fatto anche un una mossa di spavento ho visto sto muso eh non mi sono ancora abituato. Comunque sì poi c'era anche forse si facevano tanti figli anche perché c'era una una mortalità molto elevata ancora quindi eh anzi mi ricordo che eh dei miei studi eh sul concetto di 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 lutto per la perdita dei figli è una è una cosa relativamente recente risale al settecento. Sì sì. Prima del settecento non non esisteva il il lutto manifesto per la per la perdita dei figli perché era un evento talmente frequente talmente scontato che eh i bambini eh esserciamente quelli più deboli quelli più fragili potessero non sopravvivere eh i primi anni di vita quando si arriva nel settecento invece inizia il il appunto il Il lutto per la perdita dei figli, finché poi si arriva all'albero a cui tendevi la pargoletta mano, quindi anche la poesia, la letteratura inizia a occuparsi di queste cose. Anche se soffrivano lo stesso, nel 600 abbiamo le bellissime rime per la morte del figlio, in morte del figlio del Martelli, che era un poeta barocco, però è vero che col 700 si entra nella cosiddetta età della sensibilità, avvicina al romanticismo, e quindi poi i figli diventano sempre meno e quando muoiono possono, ci sono delle coppie senza figli, che poi hanno il problema di lasciare i beni a qualcuno, le famiglie si estinguono e questo può essere un dolore. Per esempio, quello che si dice del patriarcato, questo potere assoluto del patriarca, dell'uomo, su tutti gli altri, quindi soprattutto sulle donne, ma è vero questo o è anche questa una costruzione moderna che mira in sostanza a sostituire un potere con un altro, non è che si vuole superare il concetto di potere magari arbitrario, eccessivo, totalizzante, ma si vuole semplicemente sostituire il potere degli uomini con il potere delle donne, quindi si ritorna alla casella di partenza. Ecco, questo patriarcato era così orribile, così brutto, così… Allora, c'era il concetto in età, diciamo, medievale, in età moderna, c'era il concetto del buon padre di famiglia, no? Il buon padre di famiglia è quello che comunque vuole bene, non ha diritto di vita e di morte, assolutamente. Questo magari era vero entro certi limiti e con una legislazione che temperava in età romana, quindi in età più antica, oppure se andiamo più indietro ancora in età germanica, se andiamo alle popolazioni tipo celti, oppure germani, goti, ecco lì, sì, sicuramente si potrebbe fare un discorso diverso. Ma nell'Europa, diciamo, cristiana, questo no, non c'era diritto di… C'era, sì, il padre aveva sicuramente un'autorità per cui poteva, anche perché le donne erano così impegnate, poverine, che avevano tanti figli e si occupavano della casa, oppure si occupavano dell'allevamento degli animali, e quindi sicuramente c'era questo… però viene un po' resa in un modo grottesco questa autorità del patriarca. Quindi, perché è stata così demonizzata in questo modo, quindi entro certi termini, entro certi termini, ancora io vedevo un documentario ambientato nella Sicilia degli anni 40, 50, qualche giorno fa, e c'era il padre di famiglia che aveva certo il piglio di quello che decido io, eccetera, eccetera, la moglie era sottomessa. Questo in certe zone d'Italia, soprattutto, è vero che è arrivato fino al 900, fino agli anni 60 almeno, però naturalmente la legislazione non consentiva che questi avessero un potere assoluto. Tanto è vero che poi si è intervenuti con l'abolizione del delitto d'onore, che era un residuo arcaico più musulmano, che devo dire che si trovava in Sicilia e in altre zone, e aveva questa origine. ecco, poi ci sono altre articolazioni della famiglia, no? C'è la famiglia consanguinea, la famiglia sindasmiana, ci sono altre articolazioni di questa famiglia nelle quali non entriamo. Ecco, in effetti, quello che dicevi tu è riportato benissimo in quel libro, che è molto bello, Padri e figli, di Philippe Ariès. Philippe Ariès è stato un grande storico francese, uno storico di storia materiale e di storia della sensibilità. ha fatto un libro sulla morte, la morte nei secoli, insomma, come ci si rapportava nei confronti della morte. Questo Padri e figli è un bellissimo libro che racconta, attraverso moltissimi episodi, come è cambiata il modo di rapportarsi dei padri nei confronti dei figli, figli maschi e femmine. Ed è vero quello che dici tu, che fino all'età moderna, almeno, questa sensibilità estrema non c'era. Cioè, se si perdeva un figlio, si diceva che la volontà di Dio dispiaceva, ma non c'era ancora questo senso di disperazione che invece si vede nell'Ottocento. L'Ottocento romantico, soprattutto, è l'età delle belle morti, si dice, l'età delle belle morti, l'età in cui chi muore quasi mette in scena la propria morte. Se muore un figlio si soffre tantissimo. Ecco, parto da un'osservazione che sta facendo un nostro ascoltatore. Ecco, il termine patriarcato deriva anche dal mondo della religione, i patriarchi. Il termine, il termine, sì, il termine patriarcato. Ecco, appunto, il patriarcato non perviene anche al mondo antico ebraico con appunto i patriarchi. Sì, perché quelli sono un modello religioso, Mattusalemme, eccetera, eccetera, che naturalmente aveva un influsso non solo sul linguaggio, ma anche sulla sensibilità. Certo, quindi, il patercato in questo si usava anche in latino, pater, però, appunto, nel termine patriarca, nelle traduzioni latine e greche dell'Antico Testamento, rimandavano a quei patriarchi dell'antico mondo ebraico. Poi, certo, no, le leggo qui, certamente, a Genova, salvo eccezioni, le donne comandavano in casa. Ma sì, ma le donne comandavano... Comandavano dappertutto in casa. Comandano, sì, esatto. Sì, sì, esatto. Quello è sempre successo, certamente. E adesso, infatti, faremo anche una storia del matriacato. Ecco, ma per arrivare agli ideologi, coloro che hanno, insomma, scritto dei libri, dei testi, che possiamo prendere come punto di riferimento, appunto, per la storia di questo concetto, di questi due concetti contrapposti. Ecco, per esempio, qui vedo un personaggio che è Lewis Henry Morgan, la ricerca antropologica sui sistemi di parentela. Sì, Lewis Henry Morgan è stato uno dei fondatori, diciamo, della sociologia, un americano che ha evoluzionista, per il quale esisteva un sistema... Cioè, lui ha cercato di capire se il sistema patriarcale della famiglia in cui comandava il maschio, diciamo, o comunque era prevalente il maschio, fosse successivo al sistema nel quale prevaleva la femmina, cioè la donna, la madre. E quindi lui sosteneva che esistesse un matriarcato più antico e che fosse stato sostituito dal patriarcato. E adesso vedremo da dove prendeva queste idee. Le prendeva da Bachofen, le prendeva da Johann... Ecco, questo studioso, in realtà lui era un giurista di Basilea, svizzero, che a metà dell'Ottocento scrive questo libro di grandissima influenza, che si chiama Il Matriarcato, da Smutterrecht. Johann Jacob Bachofen, Il Matriarcato, un libro molto grosso, che ha avuto un grandissimo influsso su tutto l'Ottocento. Adesso vedremo su chi anche. e quindi nel quale lui sosteneva di vedere attraverso lo studio dell'antica legislazione e soprattutto delle tragedie antiche, tipo l'Alcesti, sosteneva che, oppure ipotizzava che nell'antichità prevalesse appunto il matriarcato. Cioè, lo stadio più antico fosse matriarcale e quindi ci fosse soprattutto una ginecocrazia. Lui la chiamava così. Nelle società più antiche, secondo lui, prevaleva una fase che lui chiamava eterismo o matriarcato non regolamentato, nel quale non esistevano le famiglie, nel quale c'erano degli accoppiamenti più o meno casuali e l'educazione dei figli fosse comunitaria. A questa fase sarebbe succeduta un'altra fase che lui chiamava amazzonismo, fase delle amazzoni, uno stadio intermedio, nel quale comunque questo caos primordiale veniva in qualche modo normato. Dopo a questo l'amazzonismo succedeva il matriarcato vero e proprio, nel quale la madre veniva intesa come genitore primario, perché la gestazione era sua. e lui sosteneva di trovare delle tracce di eredità matrilineare, quindi l'eredità andava alle femmine, ma poi per varie ragioni di tipo storico si sarebbe passati ad un patriarcato, cioè il potere del padre, o paternità legale ed eredità del maggiorascato maschile. Quindi è una questione di eredità anche. La società matriarcale primitiva avrebbe dato un primato sociale alla madre, c'era un'unica eredità, lui diceva che aspettava le figlie, la figlia maggiore, e però c'era anche un posto privilegiato che veniva assegnato al fratello della madre, quindi ai parenti della madre piuttosto che ai parenti del padre. E il crimine più grande di questa società, che lui diceva era una società che adorava la grande dea, ecco qui comincia a emergere la grande dea di cui parleremo, le dee della terra, Ghea nella società greca, lui studiava soprattutto le tragedie greche, in questa società, in cui si facevano sacrifici, il crimine più grande, il crimine più grande era il matricidio. E queste società, lui sosteneva, erano società agricole, quindi dove si curava molto il potere della terra, dove si coltivava, dove quindi la madre terra era considerata il bene più grande. Ecco, però appunto questa società era squilibrata, lui diceva, e quindi a un certo punto, lui sosteneva, ecco nello studio, studiando i miti greci e studiando soprattutto le tragedie, il dominio delle donne sugli uomini ebbe fine, perché si erano prodotte delle esagerazioni del matricato, e quindi alla fine, insomma, gli uomini avevano privaccio. e quindi lui vedeva una battaglia fra uomini e amazzoni, cioè queste donne guerriere, che appunto emergono nel mito greco, proprio perché ci fu, come dire, sarebbe un riflesso nel mito di questa lotta tra gli uomini e le donne, maschi e femmine. Che poi sarebbe anche, verrebbe da pensare che sia, sempre ammesso che queste cose siano dimostrate, insomma, come effettivamente avvenute, insomma, è un'analisi credibile quella di Bakhofen, o lui ha interpretato queste tragedie e poi ha tratto delle conclusioni. Allora, lui è stato contestato da subito, nel senso che no, non si sono trovate tracce di queste fasi, non si sono trovate tracce, c'erano le tragedie, il mito di Demetra, il mito di Coro, il mito di Persefona, le tragedie della fase arcaica della tragediografia greca, ma non c'è altro, per cui fu contestato, ma ebbe un enorme influsso sulla cultura ottocentesca e anche novecentesca, fino a Evola e oltre, e anche oltre, perché poi un passaggio ulteriore, dunque lui scrive un po' prima di Engels, il passaggio ulteriore è Engels, Frederick Engels, che scrive l'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, ecco questo testo del 1844, che riprende le teorie di Bakho, le teorie, perché sono teorie o ipotesi di Bakhofen, quindi lui dice all'inizio c'era un matercato, quindi lui prende questa teoria e la dà per vera, e poi viene superata, ed è lì che si crea il capitale, il capitalismo, quando i maschi unificano l'eredità e la danno al figlio maschio, appunto, ecco, quindi, mentre secondo Bakhofen c'era una redistribuzione, sì, quella che prendeva di più era la figlia femmina, maggiore, ma qualcosa veniva dato anche alle altre figlie femmine. Con il patriarcato, invece, diceva Bakhofen, diceva Engels, l'asse ereditario si salda sul maschio primogenito, quindi l'istituto del maggiorascato viene rafforzato e questo porta all'accumulo di capitale, perché poi noi conosciamo Engels non come sociologo, ma come uno dei teorici della teoria marxista. Scusa, vedo sempre una scusetta che poi mi... Sembrerebbe anche... Sembrerebbe anche che lui stia descrivendo un fenomeno ciclico, perché pensando ai nostri giorni in cui, non so, un Bakhofen del 3000 che analizzasse le serie Netflix, al posto delle tragedie greche le serie Netflix, che idea si farebbe del novecento, ma soprattutto del nuovo millennio, un'era di patriarcato? Sì, perché le serie televisive adesso mostrano donne guerriere, donne generali, fate tutto voi. Anche in politica insomma c'è un ruolo molto attivo oggi, come oggi delle donne, nei ruoli di potere, quindi, però, non si è mai gridato tanto al patriarcato come adesso, quindi è un po' una situazione schizofrenica secondo me. Sì, perché poi il patriarcato diciamo di cui si parla adesso, per esempio, in relazione all'omicidio della ragazza qualche mese fa, Cipettin, non deriva da questi modelli, da Engels o da Bakhofen, ma dai francofortesi, quindi dal femminismo riletto che rileggevano i francofortesi. Adorno, il quale diceva che nella famiglia si forma l'autorità, nella famiglia si forma la personalità autoritaria. La personalità autoritaria si forma appunto nella famiglia perché la famiglia è un nucleo chiuso, dà magari anche un'educazione religiosa, dà importanza al maschio e quindi lì è il male, no? ne parlammo quando parlammo della scuola di Francoforte. Quindi è questo tipo di patriarcato, quello di cui parlavano questi signori che si parla oggi, non certo del patriarcato antico, perché quello non esiste più, è una stupidaggine dire che esiste quel patriarcato, non esiste più. Questa è tutta una costruzione ideologica molto ulteriore. E poi è la personalità autoritaria degli altri, mica la propria, sempre così. È sempre un meccanismo di proiezione. Proiezione, benissimo. L'ideologia è diventata un unico meccanismo di proiezione dei propri difetti sugli altri, quindi tutto il Novecento e poi anche adesso vediamo queste derive. per cui sì, alla fine però c'è più che una società patriarcale, capitalismo, il sistema economico, c'è in fondo una critica e un attacco feroce alla famiglia in sé. La famiglia in sé, certo, perché serve adesso diminuire ancora il tasso di fertilità, quindi non bastano le guerre, non bastano le malattie, non bastano le vaccinazioni, hanno già fatto un bel lavoro perché noi siamo ad una fertilità negativa in Italia che è iniziata negli anni 60, 70 e poi si è aggravata sempre di più. Adesso siamo a 1,3 figli per donna perché poi si fanno questi calcoli. Quindi le famiglie non numerose ma le famiglie di media numerosità italiane non esistono più da 20, 30 anni. Come si è raggiunto questo risultato? Ovviamente con il lavoro femminile ma soprattutto con i costi delle case, con il costo della vita che è diventato con la tassazione che è diventata sempre più pesante per ragioni esoteriche in un certo senso non del tutto comprensibili e questo ha reso sempre più difficile mantenere una famiglia numerosa. Lo può fare chi ha una casa diciamo di proprietà ma una casa di una certa grandezza perché se no tenere sì, beh certo possiamo dire che una volta si viveva in 3-4 in una stanza però era una vita non felice. Recentemente vedevo un tristissimo documentario di Michelangelo Antonioni sulla vita della gente del Delta del Po negli anni 50 poi lui sicuramente ha caricato ancora di più dove si vedeva questa gente insomma vivere in casette in 6 o 7 siamo negli anni 50 51-52 si chiama Gente del Po Gente del Delta o qualcosa del genere ecco abbiamo detto Bakofen abbiamo detto Engels questa è un'altra una signora Jane Ellen Harrison Harrison certo sì sì questa Jane Ellen Harrison scrisse un libro che si chiamava Temis che è del 28 se non sbaglio che riprendeva appunto questa teoria del matriarcato primordiale e del potere delle donne Jane Ellen Harrison che visse fra la metà dell'800 e i primi 30 anni del 900 studiosa di mitologia greca affascinata da Bakofen era interessata alle origini sociali della religione greca e quindi in questa Temis che forse era degli inizi del 900 esprimeva la sua ipotesi secondo la quale la fase storica della grande madre era quella più antica era più antica di quella consacrata agli dei maschili quindi ed era un periodo meno bellicoso sosteneva lei ecco comincia ad entrare questa idea che la fase matriarcale fosse una fase pacifica simbolo dell'autonomia femminile sarebbe stata appunto questa Temis la dea che presideva i banchetti e alle funzioni collettive e le funzioni cerimoniali quindi la dea dell'ospitalità in un certo senso ecco queste questa idea della della Harrison piacque moltissimo anche alle prime femministe e non solo esiste esiste un vero e proprio sviluppo di una controcultura matriarcale nella seconda parte dell'ottocento che tocca anche Wagner tocca toccherà più avanti Ezra Pound toccherà David Lawrence e molti altri e molti altri in realtà ecco perché si cercava una un'alternativa al modello di quegli anni lì diciamo che le prime leghe femministe degli inizi del novecento avevano questi modelli avevano come modello la Harrison avevano come modello Bakhofen e quindi sostenevano il potere che diciamo che il potere maggiore potere dato alle donne avrebbe creato una società più pacifica che avrebbe evitato le guerre ecco anche Pound nei Cantos parla di questo c'è in questi anni una rinascenza di questa cultura neopagana femminista quindi anche della neostragoneria che è tutta fascinata dai principi femminili da Circe da Afrodite da Sofia dalla madre terra da Ellus Tellus Ile eccetera e anche si comincia a parlare della Ieros Gamos cioè della importanza della congiunzione sacra scusa spengo questa stufetta perché mi sta mandando delle esalazioni mi rendono difficile perché all'inizio non è non è così calda chiedo scusa voglio di verità mi è perso anche un po' d'acqua allora qui sto leggendo avete visto l'orrendo commercial del bimbo con le trecce da bimba che parla con il padre in auto no per fortuna non guardo le pubblicità non le guardiamo le pubblicità perché sono beh no poi capita anche sicuramente la vedremo adesso ancora questa non l'ho vista ecco dicevo un racconto a cultura matriarcale che è quella che tocca a un certo punto anche Monteverità eh sì dunque sì soprattutto in Germania Germania di fine ottocento di inizi novecento si creano questi movimenti fölkisch vengono chiamati anche wagneriani ma fölkisch che sostengono appunto la necessità di tornare ad una religione naturale quindi questa è tutta gente vegetariana nudista eccetera ehm a una religione della della fertilità culti della fertilità ehm e che sono anche idee che troviamo nella società teosofica perché se leggiamo bene la blablablaski la blablablaski aveva delle idee simili e quindi ehm questi sono anni in cui eh emerge il fascino per i culti misterici ehm qui i riti della fertilità ehm ecco la religione dei misteri l'ognosticismo ehm non so pensiamo a Guido von Liszt Guido von Liszt un personaggio influente di quegli anni un fölkisch è tutta gente che influenzerà il primo nazismo anche Guido von Liszt ehm sosteneva di aver subito un'iniziazione agli antichi misteri nei sotterranei della cattedrale di Santo Stefano di Vienna ecco sono quegli autori che parlano delle madonne nere madonne nere come non madonne scurite magari dal da secoli di 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 fumo di candele ma ehm nere perché eh nere come la terra quindi ecco nasce tutta questa mitologia che che anche oggi è molto presente nel in quello che io chiamo l'esoterismo popolare nella wicca nel neopaganesimo della grande madre eh anche Paul Paul de la Gard è un altro personaggio che qui insomma non abbiamo riportato come fotografia ma che si può nominare Paul de la Gard pubblicava una serie di opere a partire dagli anni Ottanta più o meno in quale sognava nelle quali nelle quali sognava una futura religione germanica che doveva diventare una religione della fertilità quindi ma si crea qui il diciamo la la dicotomia fra principio solare e principio lunare quindi il principio germanico doveva essere solare e doveva opporsi al principio semita lunare ecco quindi c'è tutta questa questo questo dinamismo questa dinamica fra maschile e femminile solare e lunare che troviamo in tanti autori che studiavano le religioni di quel tempo e che poi si ritrova anche in Julius Evola in rivolta contro il mondo moderno ha come filo rosso Bakofen e ha come filo rosso la religione solare romana ma anche greca soprattutto se riferita ad Apollo e le religioni lunari femminili come quella egizia o come quella ebraica o come anche quella cristiana ecco è tutto un movimento che poi arriva nella neostregoneria nel femminismo anche in nature philosophy e in tutti questi movimenti e che poi tocca appunto Monteverità dove convergono tutti questi personaggi e Herman S era molto legato a tutto questo al matriarcato in un certo senso e poi Otto Gross che avevamo già citato quando parlamo di Monteverità Otto Gross personaggio interessante che fu discepolo di Carl Gustav Jung figlio di quello che è considerato il fondatore della criminologia moderna il quale divenne un fautore diceva lui del dionisismo anarchico cioè lui diceva per rigenerare la società bisogna tornare all'eterismo di cui parlava Bakofen cioè sciogliere la famiglia che non devono esistere legami ma appunto liberare gli istinti e dedicarsi al culto della fertilità in senso proprio perché era l'unico modo per rigenerare l'Europa ecco questi sono gli anni in cui l'Europa viene definita già allora insomma non diciamo adesso un continente stanco una società stanca quindi lui era lui univa Bakofen con Nietzsche con Jung che lo caccia a un certo punto e Otto Gross piacerà cioè questo attivista libertario piacerà molto alle creatrici del neopaganismo del femminismo radicale neopagano come Margaret Starbite Margot Adler queste autrici che hanno scritto dei libri molto influenti negli anni 80 soprattutto negli anni 70 anni 80 oppure la Zimmer quella che ha riscritto il ciclo orturiano con le nebbie di Avalon ecco queste erano donne però c'erano anche degli uomini ad esempio il poeta Stefan George tedesco che aveva le stesse idee dal punto di vista maschile lui raccolse attorno a sé un gruppo di giovani che dedicò che diciamo educò alla magia alla devozione per i misteri eccetera e che chiamò il gruppo Cosmiker dei cosmisti cosmisti tedeschi però a cavallo fra 800 e 900 ecco questi hanno tutti idee abbastanza simili una molto nota che aveva anche questo tipo di pensiero era la moglie di di Lorenz che era una tedesca e via dicendo ecco però per parlare del patriarcato di cui si parla adesso del matriarcato di cui si parla adesso dobbiamo dobbiamo pensare soprattutto appunto alla scuola di Francoforte come dicevo prima perché questi sono dei movimenti più antichi è un pensiero più antico ed è diciamo per vedere cosa significa il patriarcato il matriarcato di cui si parla oggi bisogna leggersi ci vuole molto fegato i libri della morgia io ne ho uno qui perché devo fare una recensione ne è uscito adesso un libro postumo secondo me in gran parte scritto dai suoi amici e dalle sue amiche che si chiama che si chiama dove l'ho messo vabbè non mi ricordo non mi ricordo come si chiama l'ho lasciato lì sotto dovrei spostarmi ancora una volta indimenticabile immagini indimenticabile sì sì no lui per dire come mi è rimasto in mente dare la vita dare la vita dare la vita comunque tutto questo ritorno al paganesimo in realtà è un po' un tentativo di cancellare quello quelle che sono che sono le tradizioni delle religioni delle grandi religioni poi alla fine perché sono le grandi religioni che hanno poi forgiato i vari modelli il modello di famiglia se noi pensiamo alle famiglie islamiche le famiglie islamiche hanno molti figli a differenza delle nostre c'è ancora questo questo senso della della perpetuazione della non solo della famiglia ma proprio della specie mentre noi invece siamo un po' tutti associati al team estinzione siamo siamo contenti di sparire ecco siamo in questo questo in questo tunnel mortuario sì appunto un team estinzione mentre invece altri popoli per fortuna sono resistono giustamente perché è quello che abbiamo chiamato nella scorsa puntata l'Occidente questa creazione l'Occidente è l'Occidente che ha improiettato il desiderio di chi vorrebbe appunto l'istinto di morte l'istinto di non sopravvivenza mentre invece altre culture altri popoli non hanno questa stessa mentalità quindi è un movimento distruttivo e se volessimo dare ragione a Bakofen potremmo dire appunto che se il matriarcato comporta una una dissoluzione dei rapporti del tessuto della società inevitabilmente ritornerà un altro patriarcato a mettere le cose a posto sì certamente lui diceva non tanto il matriarcato quanto l'eterismo quello che chiamavano eterismo però sì matriarcato pacifico eccetera eccetera ora la cosa poi interessante è che una archeologa lituana che Maria Gimbutas negli anni 60 dunque la Gimbutas è vissuta tutta nel novecento ecco fra il 21 e il 94 la Gimbutas ha fatto una serie di scavi in varie regioni dell'Anatolia soprattutto della Grecia comunque le regioni che stanno sopra la Grecia regione anatolica e ha trovato delle tracce di una di una civiltà comunque delle statuette delle città antiche Kataluhuyuk no? gli scavi di Kataluhuyuk sono conosciuti dove secondo lei c'erano le tracce di questa civiltà matriacale di cui aveva parlato Bakhofen e ha scritto molti libri in cui se ne vedono alcuni la civiltà della Dea il linguaggio della Dea e sono tutti così ne ha scritti diversi in cui partendo da una statuetta della fertilità o dei morfemi oppure dei diciamo delle iscrizioni o delle incisioni sulla roccia come quelle che mostra lì in genere sono delle spirali o delle semplici forme geometriche lei ha ricostruito pretende di aver ricostruito un'intera un'intera civiltà pacifica che si si estendeva da quella regione a tutta Europa praticamente e sarebbe stata la più antica religione europea questi libri affascinarono moltissimo le femministe di quegli anni che poi scrissero molti libri su questa e crearono tutto un movimento dedicato alla grande madre alla grande madre con dei rituali con una sorta di teologia alla Adler ecco questa era un collaboratore della Gimbutas David Lemming particolare Lemming il quale facendo gli stessi scavi arrivava a conclusioni diverse per cui disse a un certo punto no cara Maria io non ho visto tutto quello che hai visto tu e quindi scrisse questo libro che si chiamava i miti della grande madre nel senso che secondo lui erano delle costruzioni o proiezioni della Gimbutas che se ne ebbe moltissimo chiaramente però è interessante vedere come tutto questo poi è rimasto è rimasto nella mitologia moderna è rimasto nella nelle proiezioni femministe del femminismo radicale tutte le autrici che che hanno ripreso questi temi e che appunto hanno detto per per fermare le guerre per tornare ad una società benevola benevola e pacifica bisogna tornare alla grande madre e non lo diceva soltanto lei per vie diverse arrivò quasi alle stesse conclusioni Robert Graves poeta e scrittore inglese autore della Dea Bianca il quale partendo da dei poemi gaelici antichi sosteneva anche lui che doveva essere esistita una una religione primordiale dedita ai culti della fertilità ma questo certamente perché i culti della fertilità sono molto antichi e sono i primi fertilità intesa come terra la fertilità non solo della donna la fertilità della terra la fertilità del mare legate si chiamano culti astrobiologici in termini tecnici e lui è arrivato a queste conclusioni con una costruzione molto fantasiosa insomma una ricostruzione molto fantasiosa leggendolo si capisce quanto ci ha messo di su era un poeta in fondo però è un libro di grande fascino quindi io per esempio quando lo ho lesso lo ho lessi con con piacere quindi Graves Lagimbutas e poi arriviamo a arriviamo al femminismo attuale insomma ai movimenti attuali che quindi al woke in particolare che vorrebbero togliere potere diciamo umiliare in un certo senso la figura maschile in quanto la figura maschile insomma l'abbiamo visto anche negli ultimi mesi la figura maschile è intrinsecamente violenta per sé è intrinsecamente violenta nei confronti della donna ma non è sempre così ecco perché il maschio esercita la sua forza fisica mediamente non sempre ma mediamente ma maggiore rispetto a quella della donna e ha questo senso del possesso che gli deriverebbe dalla famiglia la famiglia è ecco questo per esempio la murgia queste cose le ripete ad nauseam la famiglia crea crea questa voglia di possesso di gelosia eccetera come se la gelosia fosse solo maschile e anche femminile però certo ecco c'è tutta questa c'è tutta questa costruzione che fondamentalmente contesta la la famiglia ecco la famiglia e la vuole sostituire con la famiglia mi riferisco sempre appunto a questa a questa autrice defunta da poco perché è un po' la summa veramente ha concentrato tutto nei suoi libretti la famiglia fluida poliamurosa lei la chiama nella quale i rapporti di forza di potere sono distribuiti in modo uguale e dove i diciamo i figli non sono figli biologici perché dice avere dei figli biologici avere dei figli nel sangue è fascista questo termine fa ridere il fascismo eterno di cui parlava Eco e quindi meglio avere dei figli spirituali infatti lei aveva dei figli spirituali che avevano più o meno la sua età ce n'è uno che fa il professore che aveva più o meno la sua età e che ha curato quest'ultimo libro adesso mi dispiace che sia venuta fuori l'amore avrei voluto parlare di altri autori e quindi però ecco appunto siccome è una è veramente lì c'è la spremuta di tutte queste tutte queste idee anche il senso a cui si vuole arrivare fluidità totale quindi cancellazione dei della della famiglia e un cupio di solvi poi alla fine che poi alla fine quello che è veramente il pericolo per l'umanità non è il patriarcato ma è un sistema economico un sistema di potere che opprime allo stesso modo sia l'uomo che la donna ma certo l'uomo perché lo manda a morire in guerre inutili 500.000 morti ucraini per che cosa quelli erano esseri umani che sono stati mandati al macello altre altre migliaia di persone uccise civili bambini in Palestina altre guerre che si preparano adesso in altre zone calde del mondo ecco questo questo non è il patriarcato questo è un sistema economico che cerca disperatamente di negare il suo fallimento perché è un sistema insostenibile proprio perché è disumano e antiumano però la lotta tra i sessi che è una lotta assolutamente artificiale creata veramente a tavolino in un laboratorio serve per distrarre l'attenzione da quello che è il vero nemico nemico non è l'uomo nemico non è la donna la guerra non è tra uomo e donna ma il nemico è un sistema un quei gruppi di potere che gestiscono che possiedono questo sistema e che tranquillamente parlano di dimezzare la popolazione mondiale è questo il vero pericolo non il patriarcato perché quando si va a analizzare quello che scrivono questi ideologi fautori del superamento del patriarcato ti rendi conto del vuoto non c'è niente non c'è nessuna proposta non c'è è solamente un distruggiamo distruggiamo tutto va bene e dopo cosa facciamo cosa ricostruiamo torniamo ai culti della fertilità a me sembra una sciocchezza il mondo moderno con tutti i suoi limiti e i suoi difetti però non può tornare non può altrimenti ipotizziamo un mondo post apocalittico che riparte da zero riparte dalle clave come diceva diceva Einstein però cancellando tutto quello che c'è stato in termini di civiltà e di progresso mi sembra mi sembra la negazione anche del proprio tempo certo la dea madre e vabbè cosa molto materialmente quale vantaggio ci fa andare in pensione prima la dea madre trova il lavoro ai giovani permette ai vecchi di uscire al mondo del lavoro finalmente lasciare il posto ai giovani o che cosa è solo un così un modo per passare il tempo fa venire in mente un po' di giochi da aristocratici in un bel monte verità tra signore annoiate e anche signore annoiati per esempio la Gimbutas nella seconda parte della sua vita appoggiò quello che venne chiamato il movimento della dea lei disse ho dato un fondamento storico a questo movimento della dea che si stava formando e che era proprio una sorta di proposta quasi politica per ricreare un mondo senza armi un mondo pacifico un mondo verde e quindi che appunto che che rifondava completamente la società europea e lei diceva così ci ricolleghiamo ai nostri avi alle nostre ave che che appunto avevano questa vecchia religione vecchia religione peraltro è anche un termine usato dalla neostrigoneria dall'Eland e dai fondatori della neostrigoneria che fondamentalmente sono un altro culto della fertilità e e quindi questo porterà all'abolizione delle armi alla la pacificazione finale ecco quindi Lagimbutas e tutti coloro che credevano in questa in questa ipotesi che fu chiamata anche ipotesi Kurgan perché c'era una località c'era una popolazione dalla quale si sarebbe irradiata questa antica cultura eccola lì con l'Anatolia tra il mar Caspio e il mar il mar nero e da lì si sarebbe irradiata sarebbe arrivata anche in Italia sarebbe arrivata fino alla parte della Francia ecco per invece Robert Graves che abbiamo citato prima di radiazione si sarebbe svuota invece da nord verso sud questa è sempre Lagimbutas è Kurgan 4 perché poi ne ha fatte diverse d'ipotesi ecco questa qui è una proiezione dell'ipotesi Kurgan della Lagimbutas fatta secondo l'esame diciamo mitocondriale quindi le fila la vicinanza genetica di popolazioni che fa vedere una vicinanza maggiore tra le popolazioni appunto anatoliche o del nord dell'Anatolia fino alla zona finnica poi la zona dove oggi sono la Danimarca la Norvegia parte dell'Inghilterra e i paesi baltici ecco lei era lituana quindi lei era dei paesi baltici quindi poi questa teoria della Lagimbutas fu assorbita dalla controcultura degli anni 60 dai movimenti della contestazione eccetera infatti si trovano molti libri scritti in quegli anni non da studiosi ma da diciamo da da hippie da storici hippie di quel periodo che sono che sono i pronipoti di quelli di di monte verità l'abbiamo detto nel video sì sì in fondo quelli erano i bisnonni degli hippie sì sì esatto ecco poi un'altra io conoscevo prima quest'altra ipotesi prima della Gimbutas c'è tutta un'altra diciamo teoria che porta invece in India furono fatti degli scavi negli anni in anni precedenti nella valle dell'Indo a Moenjo d'Aro ad Arappa queste antichissime città che si trovavano nella nella zona della valle dell'Indo dove si diceva che non non si trovavano armi poi le armi ne hanno trovate in realtà e quindi da lì nacque tutta una teoria un po' fantastica una fanta archeologia secondo la quale queste popolazioni non avevano mai conosciuto la guerra cosa che fu poi smentita quando invece le armi le trovarono e trovarono anche segni di morti violente e di incendi per cui questa tutto questo questa costruzione fu esaminata da un archeologa che si chiamava Heller che scrisse il mito della preistoria matriarcale inventata diciamo un passato inventato adesso cito memoria per dare un passato inventato c'era il sottotitolo un passato inventato non darà un futuro alle donne quindi questa questa Heller era molto molto critica nei confronti di tutte queste cose perché diceva non è inventando il passato che noi possiamo costruire un altro futuro un futuro diverso questo è tipico anche di tutto questa ideologia di oggi per esempio quel volere a tutti i costi creare un passato di popoli che in realtà tipo non so dire i primi vichinghi erano neri queste costruzioni assurde che non portano assolutamente nessun nessun vantaggio no noi stiamo vedendo anche negli ultimi anni che i popoli africani si stanno muovendo in maniera molto autonoma molto anche a volte alzando alzando la voce dicendo no queste cose queste cose non ci vanno a genio stiamo avendo anche una lezione molto importante in ambito in ambito cattolico dalle conferenze episcopali africane che danno ci danno dei dei cicchetti mica da poco ecco quindi si sanno difendere e molto bene hanno una loro personalità senza che non hanno nessun bisogno di fantastorie non hanno bisogno di diventare vichinghi c'è una serie fatta molto bene peraltro a parte questo che sui vichinghi che io ho seguito che ha delle bellissime ricostruzioni delle capanne eccetera ma dove a un certo punto i capi della comunità vichinga sono a un certo punto delle ultime serie diventano delle persone di colore c'è una signora di colore molto afra che diventa la regina di questo regno vichingo una cosa per carità magari cose di questo genere sono anche accadute non è che però gli diventa sistematico è come cancellare la storia reale a un certo punto poi abbiamo parlato della Gimbutas della Heller queste fantastorie che si sono legate alla controcultura degli anni 30 poi degli anni 60 a un certo punto arriva anche ipotesi Gaia ipotesi Gaia di Ray Lovelock di cui si parlò molto anni fa secondo cui la terra sarebbe una creatura ipotesi Gaia e quindi è proprio l'ecologia più profonda più profonda ma anche un po' scema si legò appunto a questa spiritualità della dea che lui diceva appunto la terra in realtà è un organismo vivente dobbiamo onorarla e dobbiamo onorarla con dei sacrifici ma soprattutto sacrificandoci noi perché noi siamo degli insetti per la terra lui diceva così era questo quindi questi appunto tutti questi che dicono che l'uomo è stato detto anche che l'uomo è un cancro per la terra gentilmente la cosa più gentile che hanno detto e poi alla fine viene fuori appunto che c'è questo vecchio progetto da tanti anni da tanto tempo che siamo troppi che la terra è progettata è stata progettata per al massimo tre miliardi di persone quindi alla fine a quale gioco stanno giocando a chi stanno tirando la volata a un sistema che non non può che essere anti-umano per cui non so quale cosa positiva può derivare all'umanità dal riscoprire ipotetiche antiche religioni che dicono che l'uomo è un parassita di questo organismo meraviglioso che è la terra mi sembra che a parte il desiderio di eliminare di lottare contro le religioni contro un'idea anche di trascendenza non ci sia qualcosa di utile per l'umanità in tutto questo corpus di teorie allora gli studiosi di New Age gli studiosi di questi argomenti hanno detto che per esempio il movimento della dea e poi anche la wicca che è la neostrigoneria che adesso ha lo status di religione avrebbero dato alle aderenti una diciamo una sensazione di essere più vicine all'oggetto della della loro religione rispetto rispetto alle religioni da cui arrivavano per esempio l'Adler arrivava dalla religione ebraica la Starhawk arrivava da quella protestante e a un certo punto sentirono lontani questo dio questa tradizione a cui si erano rifatti i loro genitori e trovavano invece nel movimento della dea o nella wicca che ha delle sue ritualità una vicinanza una concretezza perché poi queste celebravano nei boschi cose belle nei bei boschi con delle tuniche bianche eccetera e quindi per questo ebbe successo nel mio anni 80 ebbe molto successo 80 e 90 dopodiché decadde adesso esistono ancora ma si sono trasformati nel post femminismo sono diventate un'altra cosa però permangono permangono molte molte tracce di tutto questo movimento quindi vicinanza alla terra riproposizione di una religione più concreta fatta di gesti rituali di gesti rituali fatti con l'acqua con la terra abbracciando gli alberi di quelle cose che ebbe un successo notevole negli anni 80 ad esempio tutto questo movimento e se ne trovano tracce se ne trova traccia anche in tantissimi libri per esempio il catalogo della Perling e Kupfer è pieno di libri su questi argomenti pieno credo che ne abbia pubblicati centinaia ma anche la Newton Compton per dire quindi dal punto di vista culturale è interessante perché si occupa di queste cose che ci sia una che ci sia questa corrente wiccan questa corrente neopagana questa corrente esoterico popolare e poi c'è una corrente tecnocratica le peggiori sono non so la Elizabeth Gould Davis la quale dice in una serie di libri che scrive negli anni settanta questa era una pazza fanatica che il maschio è una razza è una razza inferiore proprio dicevano quindi ecco che qui troviamo echi di cose che abbiamo letto anche oggi e che la cosa migliore sarebbe potersi riprodurre senza il maschio insomma perché si risolverebbero moltissimi problemi ecco tutta questa gente poi ama amava e ama oggi la ecco i tentativi tecnici di creare degli uteri artificiali quello è il sogno il sogno finale no? sì 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 liberare la donna dalla maternità dalla maternità vista come un'oppressione ricordiamoci che le donne sono state liberate dalla maternità per essere schiavizzate nel lavoro perché alla fine prima un nostro ascoltatore non ricordo chi ma comunque dopo forse lo ritrovo diceva che in pratica noi siamo i uomini e donne ricchi hanno sempre sfruttato uomini e donne povere il femminismo è stato la possibilità per alcune donne ricche o benestanti di avere di uscire di casa andare a lavorare per lasciare i figli e i lavori di casa a donne di condizione sociale inferiore questo non mi sembra questo non mi sembra un avanzamento della civiltà ma semplicemente la riproposizione di un rapporto di forze tra ricchi e poveri che andava superato invece di essere riproposto scimmiottando vecchi rapporti appunto di sottomissione quindi non lo so io ho l'impressione che tutte queste teorie siano teorie prima di tutto che andrebbero dimostrate ma che poi alla fine diventano un po' come il darwinismo un po' come il maltusianesimo come anche se vogliamo la psicanalisi tutte cose non dimostrate tutte tutte ipotesi che però hanno avuto una capacità di influire sulla politica anche sulla gestione dei popoli e quindi hanno una forza notevole la forza del walk a giorno d'oggi la forza appunto di questo gridare al patriarcato senza neanche sapere poi alla fine perché abbiamo capito stasera che cos'è il patriarcato secondo te o è difficile allora la lettura del patriarcato che si fa oggi nei giornali nei dibattiti televisivi è estremamente povera il patriarcato sarebbe praticamente la tendenza innata dell'uomo che è nato dentro una famiglia magari tradizionale ad essere prevaricatore violento e geloso questo è il patriarcato come viene letto oggi è una lettura non storica ma psicologica è uno psicologismo questo quindi però ecco invece il patriarcato storico abbiamo visto come in realtà è tramontato da 800 900 da due secoli e mezzo almeno se non di più perché non so per esempio in certi paesi o per esempio in Francia già con l'introduzione delle prime fabbriche ma già con la rivoluzione francese il patriarcato come lo si intendeva sparisce quando 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 si entra già in età moderna non c'è più proprio perché non ci sono più le le condizioni si arriva oggi a quella che viene chiamata la famiglia nucleare instabile che è una famiglia che tende a a dividersi da un momento a scindersi ecco questo credo sì che abbiamo fatto un po' una panoramica di cosa cosa si intenda per patriarcato cosa si intendesse per matriarcato secondo questi studiosi Bakhofen Morgan Engels che però prendeva da Bakhofen la Gimbutas la Heller la Heisler quindi alcune erano anche archeologhe e poi arrivano le teoriche le teoriche della trasformazione una delle delle più violente è Rian Heisler che sosteneva allora se arriviamo al culto della grande madre della Dea avremo un grande salto di paradigma che ci porterà una trasformazione radicale della società che sarà poi diciamo totalmente diversa rispetto a quella precedente questa scrisse diversi libri uno il più famoso si chiama il calice e la spada il calice e la spada sono anche gli organi questa a fine anni 80 e e lei sosteneva che bisognasse arrivare a una grande rivoluzione una grande rivoluzione che avrebbe anche esaltato la scienza quindi sono qui arriviamo però a delle così teorie del femminismo radicale del femminismo radicale quindi è già una cosa un po' diversa che però oggi pare predominare perché alla fine oggi è tutto femminismo radicale non 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 pare che ci siano delle posizioni sfumate o tolleranti no adesso è tutto è tutto femminismo radicale distruttivo siamo siamo nell'era dei distruttori di mondi ecco non non i distruttori di mondi sembravano quelli quelli che hanno creato la bomba atomica Oppenheimer che disse sono diventato il distruttore dei mondi però di fatto poi messe da parte le atomiche ci siamo scatenati con tutte queste queste forme di distruzione che sono molto più pericolose secondo me perché sono in grado proprio di distruggere il tessuto proprio di disgregare a livello proprio di atomo la società sì anche proprio la psicologia delle persone proprio la tenuta psicologica direi anche questa questa il non poter essere più sicuri di appartenere a un certo genere l'invenzione anche del genere il genere cosa vuol dire il genere c'è ci sono i sessi sono i due sessi e poi ci sono le preferenze sessuali che possono essere etero verso l'altro sesso o il proprio sesso ma il genere è anche questa è una costruzione così inventata però pensiamo poi ai danni che vengono fatti ai bambini che vengono viene inculcata ai bambini questa questa fluidità vabbè qui si andrebbe in discorsi molto sì sì però in effetti tutta questa distruzione il non non essere questo è un è un tempo nostro in cui nessuno è più capace di fare una proposta costruttiva una proposta che possa veramente portare qualcosa di positivo siamo totalmente votati alla negatività alla distruzione non usciamo da questa da questo delirio di distruzione autodistruzione per cui non lo so forse la caduta dell'Occidente potrebbe essere la sostituzione dell'Occidente con un tipo diverso di di divisione del mondo sarebbe anche auspicabile a questo punto Moia Sansone con tutti i filistei sì certamente se va avanti così insomma anche nel mondo della cultura chiamiamolo della cultura ma questa è anticultura un'altra influente che mi viene in mente è Mary Daly che veniva definita la teologa con l'ascia perché rappresentava spesso nei suoi libri c'è un'ascia perché questa sosteneva di essere una teologa e anche qui mi ricorda qualcuno e che l'ascia rappresentava il fatto che bisognava tagliare in dura storia quindi scrisse dei libri questa alla fine degli anni sessanta e poi dei libri insomma sempre più violenti uno era diciamo contestava l'idea del Dio visto come padre come maschio e quindi sosteneva ecco questa già anticipava il linguaggio woke per questa sosteneva che appunto Dio è una donna è una dea quindi ma anche nel cristianesimo bisognasse cambiare per esempio il padre nostro e quindi mettere soprattutto appunto dei termini femminili no è quella che è scritto è gene ecology gene ecology quindi non ecology ma gene ecology ecologia gene con gene cioè con donna la radice di donna meta etica del femminismo radicale questo è un testo di fine degli anni settanta e altri testi degli anni ottanta fino agli anni novanta questa era una signora molto grossa molto minacciosa che divenne anche fu presa a un certo punto anche da impulsi di sterminio cioè bisogna veramente far piazza pulita degli uomini anche in senso fisico ho letto oggi che l'ultimo film non so se sia vero ho letto questa notizia l'ultimo film di Scorsese sarebbe la la storia di di Cristo ai nostri giorni dove Cristo e Giuda sono due donne ecco ecco sono echi di questi di questa gente qui Scorsese è sempre stato abbastanza vicino a queste cose infatti quel film che fece negli anni fine anni 80 l'ultima tentazione di Cristo era derivato da Kazantakis Kazantakis lo scrittore greco che era che era abbastanza vicino a queste a queste a queste idee le conosceva bene conosceva bene anzi lui si ispirava a Lawrence conosceva a Bakofen eccetera e si Scorsese Scorsese beh adesso non parliamo di Scorsese ma comunque grazie alla notizia ho letto stamattina ho dovuto leggerlo due o tre volte perché ho detto questa sarà una fake news tipo quelle e qui dicono Oscar subito ovviamente commentano Marco Natali che dice ma la religione cattolica ha già messo la mamma di Gesù su un piano superiore Giuseppe suo marito se non è matriarcato questo ecco il ruolo della donna quando lo si vuole ridurre ad un fatto puramente materiale puramente terreno si perde anche quello che sono stati esempi femminili molto più significativi e che forse andrebbero anche riscoperti il senso della maternità il senso anche il bello dell'essere madre non solo questa terribile shagura che è diventato essere madri bene abbiamo appunto trattato un argomento che è molto complesso molto vasto è molto complesso sì abbiamo cercato di dare appunto di solito io semplifico molto mi scuso di questo no però chiaramente questi sono sono degli stuzzichini per poi continuare il discorso su dei testi che che si possono trovare ce ne sono tanti che possono raccontare appunto questi studi e quindi io ti ringrazio per questo per questa compagnia questa sera through the force through the force questa questa interessante conversazione questa interessante ennesima lezione che ci hai dato e diamo l'appuntamento ai nostri amici a una prossima accoglieremo una un suggerimento che c'è stato dato in uno dei dei commenti agli ultimi video parleremo di una ancora di storia di fatti storici molto interessanti bene ringrazio Mario Giannacone e ci diamo appuntamento alla prossima prossimo incontro ciao a tutti arrivederci 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 ciao a tutti